ciao a tutti oggi faremo vedere come macinare il caffè vi consigliamo di macinare il caffè in dosi da 250 grammi mettiamo all'interno del boccale i chicchi di caffè e li facciamo tritare per un minuto e 10 a velocità da 6 sino ad arrivare a 10 riuniamo sul fondo del boccale il caffè chiudiamo con il coperchio il misurino e ripetiamo l'operazione per altri 30 secondi a velocità 10 sul fondo del boccale il caffè macinato è pronto trasferiamolo in un contenitore con chiusura ermetica caffè macinato grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti